Un bilancio più che positivo, sia in termini quantitativi che qualitativi, per il Centro Risorse per la Famiglia della provincia di Brindisi. La struttura, infatti, nonostante la scelta obbligata di esternalizzazione dei servizi, dopo una gara di evidenza pubblica ad un'associazione temporanea di imprese, ha migliorato nei primi sei mesi del 2011 le proprie prestazioni, superando il dato complessivo del 2010. Il bilancio delle attività del centro è stato presentato questa mattina nel salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale, alla presenza del vicepresidente dell'ente Francesco Mingolla, che tra l'altro regge la delega ai servizi sociali, del dirigente del medesimo settore della provincia Fernanda Prete e del coordinatore del centro Paolo Danza, che ha relazionato riguardo alle vecchie e nuove attività della struttura. Tra queste ultime lo sportello antistalking, già istituito, ed il servizio di mediazione penale minorile, che partirà in autunno. Questi primi sei mesi del 2011 ci sono stati molto proficui, perché abbiamo realizzato molti interventi, molti più dell'altra annualità, perché abbiamo aperto dei nuovi servizi, oltre alla mediazione familiare, al sostegno ai genitori, che sono i nostri servizi specifici, abbiamo avviato il servizio antistalking, abbiamo già in trattamento delle persone, abbiamo avviato anche il servizio di mediazione penale minorile in collaborazione con i tribunali, e abbiamo anche creato una rete tra centri famiglie della provincia di Brindisi. Questo, diciamo, ci dà molta contentezza. L'obiettivo finale è quello di venire incontro le famiglie di questo territorio. Penso che questo servizio, fortemente voluto dalla regione di Puglia nel 2007, stia dando i suoi frutti. Noi continueremo come sempre, anche io ho promesso, quando abbiamo inaugurato lo sportello antistalking, che all'anno esatto, all'inaugurazione, avremmo dato i dati dello sportello. Adesso ne avremo una parte, ma non è completa, perché rientra in tutte le attività del centro di risorse. Ma vi assicuro che è una cosa veramente bella per noi che lavoriamo in questo settore, ma soprattutto è un punto di riferimento per tante famiglie di questo territorio.